Il ministro della giustizia Carlo Nordio è un ex magistrato, c'era da aspettarsi una riforma della giustizia di questo tipo da un ex magistrato che dovrebbe conoscere bene i suoi colleghi, no? Ma guarda, se penso a tutte le intercettazioni che ha fatto Nordio soltanto per esempio nell'inchiesta sul Mose, migliaia di intercettazioni, 35 arresti, 100 indagati, c'erano politici, imprenditori eccetera eccetera, o quell'inchiesta non l'ha fatta lui, l'ha fatta qualcun altro e lui l'ha firmata oppure ha cambiato idea, non so, io non ho mai visto un ex magistrato odiare così tanto non solo i suoi colleghi e la sua categoria ma proprio le funzioni giudiziarie, in realtà però se noi continuiamo a parlare di politici e magistrati perdiamo di vista il fatto che le vittime di queste controriforme non sono i magistrati, se aboliscono le intercettazioni o gliele limitano lavoreranno di meno, se tolgono l'obbligatorietà dell'azione penale il magistrato può scegliere quale fascicolo fare e quale non fare oppure se glielo dice il governo quale fare e quale non fare, cioè prendersela con i ladri di polli che rubano poco e lasciar stare i ladri col colletto bianco che rubano miliardi, il magistrato lavora di meno, se poi per risparmiare ulteriormente vogliono abolire direttamente le procure della Repubblica, le indagini, i tribunali, i magistrati andranno in ferie, 365 giorni all'anno, il problema non sono i magistrati, a me dei magistrati non me ne frega niente, a me importa di me cittadino, se io subisco un torto da un potente oggi ho la certezza che il magistrato dovrà esaminare la mia denuncia contro quel potente, se il magistrato prende gli ordini dal governo molto difficilmente il governo gli consentirà di fare un'indagine contro il potente a mio favore, allo stesso modo se io ho subito un reato io spero che il magistrato possa fare tutte le intercettazioni del mondo e se hanno rapito mio figlio voglio che intercettino me perché è me che chiamano i sequestratori per chiedere il riscatto, oggi Nordio ha detto intercettano anche i non indagati, te credo, la famiglia Moro è stata intercettata quando è stato rapito Moro perché l'unico modo di sapere chi è che l'aveva rapito era quello di cercare di beccare chi telefonava, ma queste cose sono chiacchiere da bar, è incredibile che a dirle sia il ministro di grazia e giustizia per giunta ex magistrato, ma i danneggiati siamo noi, non sono i magistrati, lavoreranno di meno, meglio per loro, siamo noi, io sento dire facciamo le indagini come una volta, certo torniamo a Sherlock Holmes che con la lente di ingrandimento cerca le impronte per terra, ma vi rendete conto di quello che dite? Ma siamo nel 2022, spostano miliardi con un clic sul computer e noi cosa facciamo? Le indagini di Sherlock Holmes sulla polvere sul terriccio, ma è ovvio che devi fare le intercettazioni telematiche, le intercettazioni telefoniche, le ambientali, il Trojan, le fanno in tutto il mondo, noi vogliamo tornare al Medioevo, ma siamo matti? Ma siamo matti veramente? Allora, se un minuto... Allora, se un minuto...